Oggi parlerò di OnePlus Pad Go, un tablet low cost, lo chiamo low cost anche se ha un prezzo di oltre 300 euro comunque giustificati dalle specifiche tecniche che devo ammettere mi è piaciuto particolarmente infatti l'ho tenuto come mio tablet principale perché? Perché incredibilmente io lo trovo molto a fuoco ora vi spiego perché, sigla e lo esaminiamo insieme lui è il tablet in tutta la sua bellezza intanto, sì, non ho disattivato la rotazione però va bene vi faccio vedere un attimo l'aspetto estetico di questo prodotto allora, qua c'è la prima criticità, questa barra in vetro che si sporca anche solo con la magia con l'aria perché rimangono le impronte, tiene un sacco la polvere, insomma decisamente poco bella anche perché l'alluminio satinato che circonda il resto del tablet è veramente fatto bene, è veramente bello piacevole al tatto, gli angoli sono smussati, insomma un prodotto che a me piace da questo punto di vista peccato per questa criticità allora, voglio farvi vedere anche lo spessore di questo dispositivo che è veramente contenuto se riesci a mettere a fuoco la camera infatti parliamo di 6,89 mm di spessore accidenti 6,89 mm di spessore con dimensioni 255 x 188 mm il peso è di 532 grammi, quindi quasi mezzo chilo ben ottimizzato, ben bilanciato, non si sente particolarmente in mano che è pesante anzi, forse se lo tengo con una sola mano un po', sì, vedete faccio un po' di fatica non perché sia debole, ma comunque mezzo chilo, è sempre mezzo chilo bisogna fare una piccola premessa esce con un prezzo di circa 330 euro e devo dire che è molto a fuoco a fuoco perché? perché lui è indirizzato a un target di utenti ben specifico come vi ho detto all'inizio della recensione ovvero chi vuole utilizzare questo prodotto per la visione dei contenuti multimediali per chi vuole vedere una serie tv per chi vede tanti video su internet, su youtube per esempio, ecco io vi faccio vedere qua una recensione tra l'altro appena uscita ok, qua stavo parlando male dell'estetica di questo smartwatch che in realtà poi mi è piaciuto, non lo so perché però è un... perché ve l'ho fatto vedere giusto per far vedere un attimo la qualità del video che poi vabbè non si potrà percepire da questo video nello specifico, a parte la pubblicità ma ciò che è importante capire ciò che è importante capire è che questo device, questo tablet ha un bellissimo pannello che è fatto apposta per vedere i contenuti è 2K cioè parliamo di un display da 2K di risoluzione quindi 2408 x 1720 pixel 260 ppi refresh rate a 90 Hz cambiamento del tocco a 180 Hz schermo scocca il rapporto è dell'86,40% e la luminosità complessiva è di 400 nits quindi anche molto alta infatti se io vado al massimo praticamente non vedete più anche perché dovrei abbassare il nuovo utilizzo della camera vabbè abbassiamo un pochino perché devo dire è forte ma non troppo ma insomma se dovete usarlo per vedere una serie tv quello che è un film in giro al mare mentre aspettate la metro al letto dove vi pare lui è perfetto complici anche i 4 speaker stereo beh lui suona molto bene si sente molto bene ha un'ottima batteria e questo assicura un'autonomia degna di nota parliamo di una cella energetica da 8000 mAh che si ricarica con la SuperVoc da 33 W comunque in confezione che è questa qui troverete solamente il cavo di alimentazione e il tablet ecco qui come vedete non c'è particolare tante cose particolari perché abbiamo la tessera del Red Cable Club un po' di monalistica e il cavo che non ho aperto perché utilizzo quello del OnePlus 12 eccolo qui a proposito del OnePlus 12 quante cose vi sto dicendo intanto questo è il cavo con l'adattatore del OnePlus 12 quindi anche una bella bestia ma un qualsiasi adattatore andrà benissimo perché vi devo parlare di OnePlus Pad Go e OnePlus 12 beh i due dispositivi possono dialogare grazie a una funzione proprietaria di OnePlus che è davvero molto molto carina non mi ricordo mai il nome ma infatti ve la devo leggere eccola autoconnect e funziona molto bene permette insomma ai dispositivi di comunicare in maniera intelligente un po' come accade con i prodotti di casa Apple Samsung insomma l'ecosistema la fa sempre da padrone torno a parlarvi di batteria perché la batteria a me è piaciuta particolarmente perché lui non si scarica tanto facilmente io l'ho utilizzato quasi esclusivamente quanti avverbi sto utilizzando non lo so per vedere i contenuti multimediali ma mi piace molto il fatto che lo posso usare come dispositivo di presentazione quando sono in giro infatti l'ho voluto prendere come tablet aziendale della mia società perché così posso magari andare in giro e far vedere dei lavori che abbiamo fatto far insomma inviare con facilità un pdf far firmare un documento con acrobat tutte queste cose qua ecco lui è molto comodo anche perché è leggerissimo come vi ho detto 500 e passa grammi ma nello zaino problemi non vedrà piuttosto che portare un computer io porto questo e via all'attacco usb di tipo c questo permette di attaccare delle periferiche infatti io sono solito andare in giro con l'ssd piccolo portatile ragged la sandisk lo collego a questo faccio vedere tutti i documenti che ho da lì scarico un contratto lo mando il volo con una delle tante app e insomma la magia avviene così si fa firmare un contrattino e si fattura ora scherzi a parte senza andare un po' troppo in questi discorsi così che fanno anche un po' ridere torniamo a parlare del dispositivo mi piace molto la skin oxygen os con tantissime gesture veramente molto intuitiva e con uno swipe verso l'alto tenendo premuto così mi apre la non so come si chiama questa interfaccia la taskbar insomma tutte le app aperte io se pigio su ciascuna app posso anche vedete utilizzarla in modalità schermo diviso bloccarla oppure per esempio trasformarla in finestra mobile così che io poi posso spostare a mio piacimento o anche magari ingrandire eccetera parlo ora un attimo di giochi perché così già che vi parlo anche del del processore di come si comporta il Mediatek Helio G99 non un fulmine non il miglior chipset con cui giocare a qualche videogame online però buono per tutte le operazioni per navigare in rete per gestire i social il vostro canale youtube ad esempio noi utilizziamo i tablet per far vedere anche le statistiche le analytics del canale youtube i social come vanno instagram tiktok eccetera eccetera oppure ho voluto provare qui real racing che attenzione non sto giocando perché non ci gioco va bene pure giocare con questo tablet e devo ammettere che va bene ora faccio vedere un attimo come si comporta sentite anche l'audio grazie a 4 speaker dolby atmos molto fluido certo non è uno snapdragon ma che li volete di cioè va benissimo per qualche partita mordi e fuggi mentre aspettate la metro a letto prima di dormire in bagno in cucina mentre aspettate che cuocia la pasta insomma per tutte queste operazioni va più che bene perché quindi tendo a sottolineare questo aspetto perché seppur non sia un device da gaming a me per il gioco in mobilità molto rapido così molto frizzante va bene poi io dico se volete giocare meglio puntare a qualche giochino più easy qualche cosetta proprio mordi e fuggi un mario kart un mario run qualcosa un subway surfer insomma qualche gioco abbastanza semplice oppure se avete voglia qualche emulatore visto che su android potete utilizzare tutti gli emulatori che volete e non come che bisogna aspettare di scaricare l'emulatore dallo store canadese da quello alternativo bla 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 insomma sul play store potete scaricare un qualunque emulatore e poi le rom da internet così mi do un tip sempre parlando di tablet io lo promuovo quasi esclusivamente perché è molto a fuoco come ho detto in più volte in questa recensione perché lui riesce a come dire a entrare in un mercato molto molto complesso a 300 e passa euro non si trovano dispositivi come lui che hanno uno schermo 2k che anche se ha un processore poco performante lo schermo 2k riesce comunque a darmi quella piacevolezza che non ritrovo magari in competitor dallo stesso prezzo finalmente sfida anche l'iPad entry level di Apple perché arriva con un prezzo più basso ha un bel design fatta eccezione per questo modulo non verticale scusate questo modulo orizzontale in vetro che è terribile alla webcam posta sul frame orizzontale in landscape mode e questo è comodissimo perché noi per esempio fra pochi giorni abbiamo una call da fare io e il mio socio ci mettiamo qui in studio la facciamo da tablet è bellissimo ok piuttosto che farla dalla webcam superiore che poi non sai mai dove guardare se sei in tablet orizzontale insomma questa per me è la vera posizione della webcam su un dispositivo del genere infatti brava Apple che l'ha fatta simile in iPad 2022 e poi non l'ha più inserita in nessun altro prodotto che peccato comunque OnePlus mi è piaciuta in questo caso perché ha realizzato questo prodotto che mi ha convinto e addirittura lui che arriva con il Mediatek Helio G99 con 8 o 12 GB di memoria 128 o 256 GB di storage interno è incredibilmente fluido nell'uso generalista ma non finisce qui perché finalmente c'è la connettività con la sim ma non i sim e basta io qui posso inserire non so se riesco a farvelo vedere sì una sim fisica ragazzi questo implica che lui può fare anche telefonate come vedete dal tasserino numerico può inviare messaggi e tanto altro ancora ma ci voleva tanto io ho visto in questi giorni un sacco di forum dove tantissime persone hanno detto finalmente finalmente brava OnePlus aspettiamo di vederlo anche sul OnePlus Pad 2 che dovrebbe uscire nei prossimi mesi e che forse in Italia arriverà con il nome di Oppo Pad 3 se non sbaglio chi lo sa comunque OnePlus Pad Go è un device che a me è piaciuto tantissimo certo la colorazione verde non mi fa impazzire questa barra in vetro non mi piace la fotocamera da 8 megapixel si va bene ma tanto chi è che fa foto con il tablet se non semplici scannerizzazioni di documenti e poco altro non lo so fate voi ditemi voi per cosa utilizzate un dispositivo del genere se lo comprerete non basatevi solo sulla scheda tecnica del Mediatek che è il G99 perché vi vedo già nei commenti ma è un chip non particolarmente ma così va benissimo soprattutto se considerate il target di utenti cioè io l'ho voluto anche tenere questo device come prodotto per la visione dei contenuti per un uso lavorativo business abbastanza classico ecco non aspetto di farci la partita del secolo di montare un video in 4K e tante altre cose di post produrre le mie immagini meravigliose no questo è un device per l'intrattenimento multimediale lo schermo a 2K e tanta roba a 90 Hz ditemi la vostra vi aspetto qui sotto nei commenti ci vediamo in un prossimo video ciao da Manuel e da OnePlus Pad Go che arriva a circa 329 euro ed è disponibile sarà disponibile nei prossimi giorni o forse lo hai già perché comunque io sto girando la recensione ancora prima che il device arrivi sugli scaffali quindi tanto su Amazon troverete anche qualche sconto io vi lascio comunque il link in descrizione così se magari quando vedrete la recensione il prezzo si sarà anche abbassato tanto meglio ciao da Manuel ciao a tutti Grazie a tutti.